Cantierizzazione entro due anni e questo l'obiettivo che si è prefissato il presidente della commissione regionale sanità Mario Oliveri, incaricato dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso, di seguire e velocizzare l'iter del nuovo ospedale di Vasto. Il nosocomio sarà costruito su un terreno di circa 13 ettari già acquisito dalla Asl Teatina e fa parte di cinque nuovi ospedali finanziati per un totale di 371 milioni di euro, buona parte dei quali pubblici legati all'articolo 20 sull'edilizia sanitaria. Giuliano Vauteramo a seconda delle scelte del territorio, sul Mona Lanciano Avezzano e Vasto, questo l'elenco a cui vanno sommati i project financing di Chieti e L'Aquila, il primo in via di definizione, il secondo in fase meno avanzata e la ristrutturazione dell'ospedale di Penne. Daremo risposte al territorio vastese in attesa da anni, dice il presidente D'Alfonso, che chiarisce anche tempi e modalità per l'iter di costruzione del nuovo ospedale. Quando si parla dell'ospedale nuovo di Vasto non bisogna pensare ad una infrastruttura sanitaria che si esaurisca dentro le mura della città, perché parliamo di una naturalissima città distretto, città comprensorio, che tra l'altro ci facilita i rapporti con quell'altra parte di Abruzzo che io mi permetto di dire sta a ridosso di Vasto e di San Salvo che è il Molise. Noi stiamo portando avanti un grande progetto di cooperazione rafforzata che parte dalla storia degli Abruzzi, rispetta e onora la grande dignità e ruolo strategico della regione Molise e l'infrastruttura sanitaria dell'ospedale nuovo di Vasto è strategica. 84 milioni di euro partirà da domani per l'idoneità del regime del suolo dal punto di vista urbanistico e poi mettiamo in campo, come prevede la legge, un project financing dedicato. Noi avremo un'offerta progettuale da un operatore economico e avremo un cantiere frutto di una gara d'appalto internazionale. Il mandato di Olivieri prevede anche la coniugazione della progettazione edilizia con le esigenze della progettazione sanitaria. Olivieri si è detto pronto a raccogliere la sfida a queste le sue linee di programma per i prossimi mesi. Diceva bene il Presidente siamo sul confine del Molise, noi contiamo anche sul contributo circa le utenze del Molise ed è importantissimo. Ecco perché ho voluto fortemente dal Presidente che fosse la priorità, che fosse il primo dei 5 ospedali da cantierare. Naturalmente c'è questa possibilità adesso dell'arretramento che va a servire, va a dare questo importante servizio perché se un problema c'è in un territorio, in un'area, in uno spazio dove va realizzato l'ospedale già acquistato dall'azienda sanitaria, sono 12 o 13 ettari circa, 12 ettari e mezzo, se un problema c'è è quello infrastrutturale e noi dobbiamo dar mano da domani alle infrastrutture per poter poi entrare con le ruspe. Grazie.